Lavoro sicuro edilizia popolare sostenibile. Oggi i lavoratori edili in piazza contro il decreto sul super bonus 110%. L'iniziativa nazionale si svolge in cinque periferie italiane delle città di Roma, Torino, Napoli, Cagliari e Palermo al fine di evidenziare le gravi criticità contenute nelle modifiche al decreto e far sentire le proposte che sindacati avanzano con l'obiettivo di aggiustare il tiro e di evitare gravi ripercussioni economiche, sociali, occupazionali e ambientali. A Roma dall'Abruzzo 6 Pullman, tre organizzati dalla Fillea CGL, altrettanti dalla Fenea Will. Marco Ranieri, segretario generale della Fillea CGL di Chieti Pescara. Il decreto legge numero 11 2023 che è entrato in vigore dallo scorso 17 febbraio, in sintesi, in sostanza, va riscritto, dite voi. Noi diciamo di sì che va riscritto perché se rimane così significa una perdita secca di oltre 100.000 posti di lavoro del settore che non ci possiamo permettere. La scelta di manifestare nelle periferie? Beh è un segnale importante perché bisogna ripartire dai condomini, quindi dalle zone periferiche dove c'è tanto bisogno dalle case popolari di ristrutturazione. Entrando nel merito questo decreto legge va a colpire le classi meno abbienti? Sicuramente, sicuramente così colpisce quindi quei settori tant'è che ad oggi se noi vediamo le case popolari sono vicini allo zero. L'eliminazione della cessione del credito e dello sconto in fattura sono queste le cose che voi contestate? Sono queste perché anche questi ci sono tanti crediti incagliati quindi che non si riesce a sbloccare quindi ad oggi per assurdo le aziende non nonostante hanno appaltato i lavori non iniziano i lavori. Anche la rigenerazione urbana degli edifici fa parte delle vostre rivendicazioni? Eh sì perché non è di poco conto la città del futuro insomma quindi a livello di risparmio energetico di tutto quello che noi diciamo per migliorare le nostre città e la vivibilità. Ecco Ranieri altro aspetto da considerare il codice appalti che cosa chiedete in questo senso? Noi chiediamo che non è possibile l'appalto del subappalto del subappalto perché? Perché questo significa generare lavoro grigio.